ciao a tutti e bentornati al canale oggi siamo qua per parlare di nuovo di sistemi di accumulo di energia di rinnovabile di indipendenza energetica anche se parziale con uno dei prodotti di bluetti che probabilmente è il migliore per quanto riguarda l'appartamento che cosa di diverso rispetto ai vari bluetti che ho recensito ultimamente tra i quali diciamo quelli più potenti della loro gamma di vicentrali per uso anche domestico beh la prima cosa che si può notare è proprio un discorso estetico prettamente estetico perché nella sostanza in realtà non ha molte differenze con il bluetti ac 300 perché la componentistica è molto simile però la forma è veramente differente quindi è un prodotto che si presta molto di più a un utilizzo per un appartamento per una casa rispetto all'utilizzo in ambito off grid esterno come può essere quindi l'utilizzo su un camper o baita o casetta o barca queste situazioni qui dico che non è molto adatto a questo genere di utilizzo perché è per un semplice motivo perché il peso è veramente molto elevato perché pesa più di 70 kg quindi questo sistema io abito al primo piano per portarlo su dalle scale mi sono dovuto far aiutare da un amico ed è stato comunque molto difficoltoso da trasportare una volta giunto in casa a queste rotelle che permettono comunque di movimentarlo e spostarlo distanza in stanza in base alle vostre esigenze quindi è stato progettato proprio per essere utilizzato in modo itinerante all'interno dell'appartamento per quale motivo perché se noi non vogliamo per esempio chiamare un elettricista e collegarlo al quadro elettrico ma vogliamo utilizzarlo così com'è è assolutamente fattibile ed anzi è progettato per questo genere di utilizzo quindi noi lo compriamo ci colleghiamo nei pannelli fotovoltaici che siano pieghevoli o che sia un impianto fisso e lo possiamo utilizzare immediatamente utilizzando le sue uscite senza necessariamente collegarlo al quadro l'operazione del collegamento al quadro si può fare ma ovviamente dovrete rivolgervi a un professionista io non non vi dico nulla al riguardo ma ora dopo questa breve carrellata dopo questa breve presentazione per farvi capire a quale utente è destinato questo sistema andiamo a vedere un po più da vicino come è fatto e tutte le sue uscite ingressi e caratteristiche tecniche intanto la prima cosa che possiamo notare è proprio un discorso estetico questo bluetti è molto bello quindi si può utilizzare direttamente in appartamento quindi non abbiamo necessità di avere una cantina un garage un locale dedicato per il nostro impianto di accumulo lo possiamo utilizzare direttamente in appartamento come sto facendo io del resto ip500 pro 3 kilowatt di potenza in uscita potenza nominale quindi vi dico già da subito non chiedetemi cosa si può far funzionare con questo impianto perché funziona tutto tutti gli elettrodomestici che avete in casa sono sotto i 3 kilowatt quindi funzionano tutti è esattamente come ac 300 5100 watt di accumulo quindi 5 kilowatt ora di accumulo è sufficiente per essere indipendenti per al massimo un paio di giorni poi dipende sempre come lo utilizziamo e cosa ci facciamo è un'ottima autonomia dopo vi spiegherò anche un pochino più o meno a grandi linee cosa si riesce a fare con 5 kilowatt ora sotto sono presenti come avete potuto notare delle ruote per spostarlo dietro sono direzionali quindi si può girare come volete invece queste qui sono fisse dietro non c'è molto da dire c'è un interruttore proprio generale per accendere la macchina al primo utilizzo e poi c'è anche un un bulloncino per la messa a terra questo lato come l'altro diciamo che sui lati esterni non c'è molto da dire sono anche presenti queste due maniglie una dietro e una davanti per muovere e trasportare le p500 pro piacevolmente perché come vi dicevo è molto pesante quindi questo sistema ci agevola per farci aiutare adesso andiamo a vedere le varie uscite e i vari ingressi che sono presenti qui davanti e sopra allora nella parte inferiore abbiamo tre uscite 220 3 kilowatt trasciuco coperte da dei tappi di gomma qua ci sono invece gli ingressi ingressi per la rete di casa quindi la 220 16 ampere massimo carica col cavo fornito in dotazione a 2,2 kilowatt è possibile aumentare anche la potenza di ricarica cambiando le impostazioni ed utilizzando dei cavi propriamente dimensionati questo invece l'ingresso per i pannelli fotovoltaici e questo qui è una porta di interfaccia che da quanto mi risulta non funziona in europa perché serve per collegare più unità assieme al di sopra c'è questa specie di ripiano molto ampio dove ci sono due uscite per la ricarica wireless per gli smartphone e poi le uscite per l'accendisigari 12 volt cavo speciale quello aeronautico da 12 volt 30 ampere due jack 12 volt 10 ampere che personalmente non ho mai utilizzato questa tipologia di jack due usb type c da 100 watt 2sb rapide e 2sb 5 volt 3 ampere quindi quelle classiche quelle rapide sono ovviamente a 18 watt un'occhiata rapida al menu se avete a c300 o se avete già visto il video di c300 vi dico da subito che il menu è lo stesso è identico è praticamente quello per tutti i sistemi più grossi di bluetti quindi ci sono ben poche differenze anzi rispetto ad c300 non ce n'è nessuna quindi qui abbiamo indicazione del dello stato di carica della batteria il voltaggio e la percentuale in questo caso mi dice anche che in stand by non è in carica perché siamo scollegati qui eventuale ingresso della rete qui i carichi della corrente alternata qui i carichi della corrente continua con tutte le varie uscite da 12 volte quindi tutto molto preciso qui gli ingressi dei due regolatori mpt come c300 abbiamo due regolatori mpt indipendenti separati da 1200 watt l'uno quindi per un totale di 2400 watt in ingresso questi due regolatori mpt con una funzionalità che tra breve andremo a vedere nel menu si possono anche mettere in parallelo e diremo due parole a breve su questa funzione qua sotto attiviamo le varie uscite o le disattiviamo inverter onda sinusoidale pura 3 kilowatt di potenza nominale c'è stato anche recentemente un aggiornamento firmware e ho notato che se noi teniamo l'inverter acceso senza carichi sappiamo benissimo che c'è normalmente un consumo quindi si scarica anche senza carichi connessi hanno migliorato l'efficienza dell'inverter sicuramente con l'aggiornamento qua le informazioni sul prodotto qua torniamo praticamente è una ripetizione dei vari menu che abbiamo già visto prima informazione della batteria allarme story vi dà una cronologia di tutti gli eventuali allarmi o errori che ci sono stati anche qui su alarm quello che interessa di più noi sono le impostazioni impostazioni abbiamo possibilità di settare lingua in inglese o in tedesco la 230 luce la frequenza in uscita 50 60 hertz si può scegliere ingresso 1 ingresso 2 quindi si possono separare eventualmente si può fare un mix pannello fotovoltaico e l'altro si può mettere ad esempio una presa accendisigari dell'auto perché si può ricaricare questa centrale in ogni modo possibile quindi tramite la corrente di casa tramite presa accendisigari eccetera eccetera tramite generatori e così via in questo caso ho lasciato tutte e due su pv quindi pannelli fotovoltaici e a breve vi farò vedere anche l'impiantino che sono riuscito a fare qui in un appartamento quindi una cosa veramente un pochino improvvisata come stanno facendo del resto molti utilizzatori di bluetti si stanno inventando varie soluzioni per potersi produrre un po di corrente anche in un contesto come il mio un appartamento buzzer setting sempre un'impostazione di allarmi sonori eco modalità eco praticamente se non ci sono carichi connessi al all'inverter quindi per la corrente alternata la centrale si spegne automaticamente per evitare di consumare energia in mio caso è disattivata perché la disattivo manualmente questa centrale ovviamente è ups come esattamente come ac 300 si può impostare quindi anche la priorità di questo gruppo di continuità possiamo gestire fare un mix quindi dare priorità al pannello fotovoltaico quando la centrale rileva che il pannello fotovoltaico non produce non so cala al 20 per cento settiamo noi la percentuale di batteria arriva al 20 per cento automaticamente passa alla rete del fornitore queste sono impostazioni che scegliamo noi di fare se vogliamo fare un mix nel mio caso io non lo sto utilizzando come gruppo di continuità lo carico semplicemente con i pannelli fotovoltaici comunque se volete utilizzarlo come gruppo di continuità si può fare il suggerimento è quello di dare ovviamente la priorità ai pannelli fotovoltaici per la ricarica e se avete un fornitore con delle fasce orarie di corrente più convenienti impostate quelle fasce orarie e se il fotovoltaico non è sufficiente per caricare la centrale passa a caricarlo con il fornitore in modo che in caso di blackout abbiate sempre disponibile della corrente per far funzionare appunto il gruppo di continuità che serve nel caso di blackout per fornire continuità dell'alimentazione del vostro appartamento ecco silent mode sempre per disattivare degli allarmi qua il max grid input la corrente massima in ingresso che adesso è settata su 10 ampere ma è possibile modificarla tramite una password che vi fornisce eventualmente bluetti ecco qua pv parallel and enable adesso è off cosa serve se noi attiviamo praticamente noi puntiamo tutto ad una stringa sola di pannelli fotovoltaici cioè non usiamo come sto facendo io adesso due stringhe separate con esposizioni leggermente diverse ma se noi abbiamo solo ad esempio la possibilità di caricare tramite una serie di stringhe esposte tutte sullo stesso lato possiamo sommare gli ampere dei due regolatori mppt e quindi utilizzare una stringa sola per superare l'amperaggio massimo che è consentito da ogni singola stringa mppt che se non erro sono 10 ampere che quindi se noi sommiamo con la funzione pv parallel enable diventano 20 ampere ok se invece noi vogliamo utilizzare due stringhe di pannelli fotovoltaici esposte in su lati differenti del della nostra abitazione oppure utilizzare un mix fotovoltaico e magari eolico possiamo utilizzare i due regolatori mppt separati questo dipende da noi connessione bluetooth e wifi c'è la sua applicazione che adesso andremo a vedere brevemente questo è per disattivare il suono del dei tasti regolazione del contrasto slip time del display quindi un minuto dopo si spegne data ora reset all'impostazione di fabbrica ed è tutto per il display sempre molto chiaro molto semplice molto carino come vi dicevo è presente la connettività wifi e con l'applicazione di bluetti possiamo gestire le nostre centrali da remoto ovunque noi ci troviamo ecco in questo caso vedete abbiamo vabbè tutto fermo perché la centrale non sta caricando e non sta consumando nulla comunque possiamo praticamente gestire tutte le impostazioni che abbiamo visto prima sul menu direttamente dalla sua applicazione ovunque noi ci troviamo anche se siamo via se siamo fuori casa possiamo gestire la nostra centrale per esempio vedete qui sopra io ho l'impianto della baita ecco vedete questo è l'impianto la c300 che ho in baita in questo momento non è ancora spuntato il sole dietro le montagne sta caricando 70 watt questo è il periodo dell'anno ovviamente peggiore ma adesso andremo a parlarne brevemente come vi dicevo io ho un appartamento e l'ho sistemato qui in questo anticamera in un angolino dalle scatole di derivazione ho fatto arrivare i cavi dei pannelli fotovoltaici che ho installato sul balcone adesso vi farò vedere brevemente come mi sono arrabattato in qualche modo ho un piccolo impiantino da un kilowatt ovviamente essendo in un appartamento al primo piano non avendo un giardino non avendo poi dei balconi molto strani quindi mi sono dovuto un pochino arrabattare in qualche modo e ho trovato questa soluzione questo è il periodo dell'anno assolutamente peggiore per produrre corrente perché siamo proprio a metà dicembre quindi il sostizio d'inverno dove le giornate sono più corte in assoluto e comunque al di là della lunghezza delle giornate oltretutto ci si mette anche il maltempo perché le giornate di maltempo sono più frequenti quindi si produce poco già a novembre ho notato che riuscivo a produrre già un quantitativo secondo me sufficiente per per quanto riguarda un soggetto singolo come sono io ovviamente più si andrà avanti e più si riuscirà a produrre questo genere di impianti gli impianti fotovoltaici con accumulo sono fatti per essere gestiti quindi non potete fare che utilizzarlo come se fosse il contatore domestico senza preoccuparvi di nulla dovete gestire i consumi si consuma di più quando si produce di più si risparmia corrente quando si produce di meno secondo me è un sistema più adatto a un utilizzo ibrido quindi un sistema non completamente off grid diciamo per un appartamento poi se voi utilizzate in una seconda casetta in cui non siete costantemente lì sicuramente si può utilizzare meglio dipende anche molto dalla superficie che avete a disposizione dall'esposizione per l'installazione dei pannelli fotovoltaici perché se è vero che i regolatori mppt supportano 2400 watt massimo è anche vero che si può fare overpaneling come mi fanno molti quindi installare più pannelli rispetto a quelli che sono supportati dalla centrale per quale motivo perché se noi mettiamo 2400 watt di pannelli giusti giusti in inverno per esempio non arriveremo mai alla massima produzione di 2400 watt se noi sovradimensioniamo all'impianto magari mettendo 3 4 kilowatt c'è anche chi ne ha messi 5 di kilowatt di pannelli fotovoltaici riusciamo a starci dietro anche in inverno e anche magari giornate come quella di oggi che è una giornata non particolarmente soleggiata infatti vi dico attualmente sta producendo 60 watt sono ancora presto la mattina sono ancora basso sono le 10 quindi andrà sicuramente migliorando il cielo è nuvoloso in questo momento sta producendo 60 watt che è poco è poco però durante l'arco di tutta la giornata se nel mio caso sono riuscito a vedere 600 watt in ingresso che è già soddisfacente per quanto mi riguarda dovrebbe andare anche migliorando considerando che un kilowatt di pannelli fotovoltaici sul balcone quindi l'importante se vogliamo fare dell'overpaneling è non sforare i volt perché il range dei volt è molto fiscale invece il range degli ampere è differente perché correnge dei volt anche con una bassa irradiazione solare si blocca il regolatore mp non fa entrare la tensione perché è un valore proprio quasi più di sbarramento l'amperaggio invece è più gestibile nel senso che va molto in base appunto all'irradiazione solare quindi se noi stiamo nel range dei volt e la corrente in ingresso alla mattina magari è di 2 ampere nel corso della giornata va incrementando fino al massimo di 10 ampere quando sfora quel massimo di 10 o 20 in base se teniamo i regolatori separati o li paralleliamo quando supererà la potenza massima di corrente supportata si bloccherà la ricarica però in ogni caso è sempre meglio avere se si ha la possibilità della potenza di pannelli in più rispetto a quella supportata per giornate di maltempo parzialmente nuvolose e per l'inverno è inutile che vi faccia vedere dei test forni microonde che tanto sappiamo benissimo che possono funzionare in questo caso abbiamo un asciugacapelli lo metto alla massima potenza l'asciugacapelli assorbe comunque parecchia corrente molto energivoro attiviamo la corrente alternata questo ha un assorbimento di 1670 watt siamo neanche alla metà della potenza nominale supportata quindi non abbiamo nessun problema vi posso dare anche un feedback a distanza di circa due mesi che utilizzo questo impianto è un impianto veramente molto bello molto performante è sicuramente l'impianto secondo me migliore per l'appartamento è quello che vi consiglio per l'appartamento perché è un pezzo unico esteticamente bello lo potete muovere in giro io utilizzo attualmente sto utilizzando tutti gli elettrodomestici energivori come lavatrice e asciugatrice con delle prolunghe e mi arrangio così in futuro lo collegherò probabilmente al contatore però per il momento vi dico va bene così che cosa si riesce a fare con 5 kilowattora io normalmente arrivo dal fine settimana faccio la lavatrice il weekend sono sempre via nel weekend si carica appieno abbiamo al 100 per cento di carica all'interno della centrale alla sera faccio una lavatrice lavaggio medio diciamo a 40 gradi e poi faccio ciclo di asciugatrice e mi resta adesso non ricordo esattamente per la precisione va in base ovviamente anche alla tipologia di lavaggio che fate ma comunque sicuramente almeno un 50 per cento di carica residua vi rimane ancora con un altro 50 per cento di carica residua potete fare tutta una serie di cose guarda dalla televisione fare un'altra lavatrice fare tutta una serie di cose quindi diciamo che l'autonomia sufficiente poi dipende anche molto da tantissimi fattori da quanti siete in casa da quante donne avete in casa perché se dovete asciugarvi tutti quanti i capelli nel mio caso tre minuti di asciugacapelli sono asciutti quindi non è un grande consumo so che molti vorrebbero sapere quanto si risparmia sulla bolletta un impianto del genere non è che lo prendete secondo me per un discorso di risparmio perché i tempi di ammortamento sono variabili dipende anche dove siete in che zona d'italia dalla vostra esposizione quanti pannelli fotovoltaici potete mettere i tempi di ammortamento possono essere molto relativamente brevi in qualche anno potreste ammortizzare come possono essere molto lunghi è semplicemente uno strumento secondo me anche per appassionati di tecnologia per appassionati di rinnovabile perché vogliono essere indipendenti e vogliono fare anche un discorso di sì di indipendenza perché comunque con questo impianto noi anche in caso di blackout siamo comunque sempre attivi per quanto riguarda la corrente elettrica quindi possiamo anche andar via in vacanza collegarci una cella freezer e essere tranquilli che in caso di blackout non andremo a perdere il cibo per esempio sicuramente è utile anche per un discorso più green per un discorso di abbattimento anche delle emissioni di co2 nell'atmosfera è un bellissimo oggetto tecnologico ed è fondamentalmente adatto a tutti perché è molto semplice lo tiriamo fuori dalla scatola lo inseriamo colleghiamo dei pannelli fotovoltaici e l'impianto è finito senza aver bisogno di tecnici se lo utilizziamo così com'è quindi in conclusione penso che sia il migliore impianto che ci sia in circolazione al momento prezzo consideriamo sempre 5 kilowattora quanto può costare 5 kilowattora circa 5000 euro questo sono i prezzi standard del mercato più o meno sono questi va diciamo potremmo considerarlo più o meno un euro a watt a wattora quindi 5000 wattora 5000 e qualcosa euro spero di riuscire ad avere dei codici di sconto se non li vedrete subito ricontrollate perché cercherò di farmi ridare da bluetti vi ricordo che anche su tutti gli altri prodotti che ho recensito ci sono dei codici di sconto che in alcuni casi sono l'unico ad avere quindi controllate bene se avete intenzione di acquistare uno dei loro prodotti penso di aver dato tutto fatemi sapere come vi sembra questo bluetti ep500 pro fatemi sapere soprattutto se avete un bluetti come vi trovate ci vediamo al prossimo video vi ricordo di iscrivervi al canale mettetemi un like e lasciatemi un commentino ciao a tutti